Direttore, qui. Tra poco iniziamo con le dirette, diamo tempo ai colleghi di sistemare tutto. Intanto bentornati nella sala stampa Donato Bergamini, ci siamo visti qui nel post Cosenza-Brescia, ci siamo emozionati in Brescia-Cosenza, però sono passati pochi giorni eppure c'è tanta voglia di riprendere il discorso. La cosa migliore per farlo è presentare con entusiasmo il mister Fabio Caserta, il tecnico che guiderà il Rosso-Blu nella prossima stagione, che avrà inizio nella settimana prossima con il raduno, poi il retiro ad Assisi di cui abbiamo dato notizia, e poi naturalmente la Coppa Italia, abbiamo visto che Cosenza entrerà in gioco nei trentaduesimi di finale. Gli chiedo di abbassare le suonerie, se è tutto ok possiamo, prego una foto dal volo da parte di Antonio Clausi, poi dopo liberiamo lo spazio. Abbiamo cambiato, siamo tornati alle vecchie regole con il palchetto per consentire di guardare nei volti e negli occhi i nostri intervistati. Diamo il via alla conferenza stampa di presentazione di mister Fabio Caserta e diamo il via con un'introduzione, un saluto del direttore Gemmi e vi porto naturalmente i saluti del presidente Eugenio Guarascio, che vi abbraccia a tutti e vi aspetta per la prossima stagione, naturalmente ci sarà modo per sentire anche lui e di dialogare con il presidente a breve. Prego direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovati, ho trovato. E buone vacanze per chi... No, l'introduzione è molto semplice e scarna. Dopo quest'anno, con estrema sincerità, sul mercato e anche sugli allenatori, e questo dobbiamo essere un po' tutti orgogliosi, non è un merito mio, ma di tutto Cosenza, ho avuto, in tutte le persone che ho parlato, dei feedback molto positivi, una grande voglia di far parte di questa squadra perché la piazza e Cosenza è diventata qualcosa che piace molto di più. Il merito non lo so di che, però questa cosa secondo me mi ha fatto molto piacere. Quindi parlando, poi nel scegliere l'allenatore abbiamo fatto una scelta della persona che aveva più voglia e desiderio di condurre questa squadra, questo club e questi tifosi. Quindi il mister lo conoscevo già da un po', abbiamo sempre avuto grande affinità parlando di calcio, e quindi è stata anche fisiologica perché lui ha dimostrato subito una grande voglia di venire qui e quindi siamo stati abbastanza semplici in tutti i passaggi per portarlo qui. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi lascio qualche domanda al mister e non dico nient'altro. Poi se potete fare qualche domanda sono qui, visto che dite che non rispondo mai, invece non è vero. Grazie, grazie direttore, che ha già spiegato per stormi i capi la scelta di Fabio Caserta. Naturalmente il mister è a vostra disposizione per le domande. Cominciamo con Franco Rosito, Gazzetta del Sud e Tessera Coni. Direttore, intanto buongiorno, non parò scommesse quest'anno, una già gliela devo pagare, l'altra non l'ho portata a termine, l'avrei persa sicuramente, poi gliela dico dopo in un orecchio. Mister, benvenuto intanto a Cosenza, bentornato in Calabria. Sappiamo, so che lei parla di calcio e lavora sul calcio almeno venti ore al giorno, non ci interessa sapere cosa fa nelle rimanenti quattro. Cosenza ha una voglia di divertirsi finalmente, di vedere un bel calcio, di non soffrire, anche perché noi che abbiamo qualche capello bianco in più non possiamo permetterci lussi diversi come quello di Brescia, per esempio, o degli ultimi anni. Comunque, ci aspettiamo da lei un campionato frizzante, una squadra frizzante, una squadra che sappia giocare. Sicuramente se lei è qua ha voglia di rilanciarsi. Conosceva Gemmi, è una scommessa per lei, una piazza di rilancio e quali garanzie ha chiesto, soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo, visto che lei è un allenatore a cui piace molto l'attacco, attaccare, fare male agli avversari. Come intendete fare male agli avversari quest'anno? Innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie per essere venuti. Mi fa molto piacere l'accoglienza e sono molto contento perché ho avuto anche altre scelte, potevo fare altre scelte, però ho deciso di venire a Cosenza perché ho scelto di sposare questo progetto perché poi conoscevo il direttore da tanto tempo. Ringrazio per la scelta che ha fatto, che ha deciso di scegliere, ha sottoscritto sia il direttore che il presidente. Quindi voglio ripagare questa fiducia nei miei confronti, lavorando, come ha detto lei, 24 ore è impossibile perché 4 ore le dedico un po' alla famiglia, però nella maggior parte delle ore cerco di fare al massimo il mio lavoro perché è un lavoro che a me piace tantissimo. Sono venuto con tanto entusiasmo perché mi voglio rimettere in gioco, perché credo e sono convinto che questa piazza è una piazza importantissima. Quando dico che ho scelto di venire qua perché veramente avevo tanta voglia di rimettermi in gioco, credo che questa piazza sia una piazza per il sottoscritto, perché è una piazza, sono calabrese, quindi so cosa significa lavorare in Calabria. Sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare perché sono stati mesi difficili, perché quando arrivi da un esonero stai tanto tempo fuori, hai tanto tempo per aggiornarti, per guardare, però poi ti manca il campo. A me manca tanto il campo e non vedo l'ora di iniziare e cercare di fare il massimo e di fare bene. In questo campionato è un campionato difficile, però ci sono le basi per poter fare bene. Franco Segreto con lo sport, domanda per Mr. Caserta. Allora, visto che siamo entrati in argomento, intanto benvenuto qui a Cosenza. Volevo chiedere del progetto tecnico, che progetto tecnico avete in mente ha il Cosenza Calcio per il prossimo campionato e poi della rosa attuale che lei sicuramente conoscerà perché l'ha vista gran parte, ci siamo incrociati nella gara 1 contro il Brescia dei play-out. Volevo capire, c'è qualcuno incedibile? Mi riferisco a Florenzi, mi riferisco anche a Venturi e magari a Regione. Ecco, progetto tecnico e qualcuno se è incedibile o meno. Grazie. Per quanto riguarda il discorso di giocatori cedibili o meno, sono discorsi che poi affronteremo insieme alla società. Abbiamo solo la rosa attuale, sappiamo dove intervenire, però sono discorsi che faremo col direttore, col presidente, perché noi vogliamo cercare di tenere i giocatori più importanti e perché i giocatori importanti bisogna tenerli. Florenzi è un giocatore importante che ha fatto molto bene, sta meglio rispetto all'ultimo periodo che ha avuto qualche problemino fisico, però sappiamo i ragazzi che è un giocatore importante. Però per quanto riguarda l'aspetto di mercato, l'aspetto di chi rimane, chi arriverà, sono valutazioni che faremo. Abbiamo il tempo per lavorare e quindi il ritiro serve per lavorare, per valutare bene i giocatori che magari l'anno scorso non hanno fatto benissimo o i giocatori che dobbiamo integrare. Quando scelgo anche Cosenza, scelgo al di là della società, il presidente lo conoscevo solo di fama, io conosco bene il direttore, so come lavora e mi ha spinto anche a questo per scegliere Cosenza perché so che sono nelle mani buone e quindi valutiamo e valuteremo i giocatori che rimangono e che devono arrivare. Raggiungo Walter Leone, Gazzetta dello Sport e Tifo Cosenza. Buongiorno, benvenuto. Evidentemente quella sera quando abbiamo chiacchierato poco prima che cominciasse Cosenza-Brescia come se fosse scritto da qualche parte che doveva essere qui. Intanto benvenuto di nuovo. Il Cosenza, le ultime quattro stagioni sono state quattro stagioni di sofferenza. A sentire anche la dichiarazione del presidente Guarascio si vuole invertire rotta. Come accennava il direttore prima, anche nei contatti sembrerebbe che ci siano i presupposti. Qual è quindi l'idea di Caserta per fare in modo che si realizzi questo qualcosa in più rispetto agli ultimi anni? Io credo che il campionato di Serie B sia un campionato difficilissimo. Quando si parla di sofferenza, abbiamo visto anche l'anno scorso squadre molto blasonate. Poi il campionato come il Finitas. Noi cercheremo di soffrire e vogliamo soffrire il meno possibile. L'obiettivo primario è quello di mantenere la categoria, di cercare di divertirsi e far divertire le persone. Di vedere una squadra aggressiva, perché a me non piace vedere la squadra che aspetta l'avversario. A me piace, sapendo che si possono correre anche dei rischi, però a me piace vedere una squadra che sia sempre propositiva, che sappia fare quello che prova durante la settimana e che poi lo riporta in campo la domenica. Noi cerchiamo di fare questo, soprattutto di avere sempre quell'entusiasmo che ho visto in quella partita, perché vedere lo stadio pieno con quell'entusiasmo di fare per i ragazzi è sicuramente un'arma che dobbiamo sfruttare. Questo lo possiamo sfruttare, possiamo portare le persone dalla nostra parte solo se vedo l'impegno e questa è una cosa che a me interessa più di tutte le altre della mia squadra. Vedere l'impegno, rottare palla su palla, poi il risultato, il calcio è il frutto degli episodi. Quindi noi dobbiamo cercare di dare e dobbiamo dare il massimo partita dopo partita. È questo che noi vogliamo fare. Ripeto, il campionato Serie B è un campionato difficile e quindi noi dobbiamo essere pronti a sapere soffrire quando ci sarà da soffrire speriamo il meno possibile, però noi vogliamo fare questo cercare di far divertire le persone e portare più gente possibile allo stadio. Pippo Gatto, nuacosenza.com Salve, Ministro, benvenuto a Cosenza. Al di là del fatto che una squadra importante si costruisce sul portiere, sul difensore centrale, il play è l'attaccante da doppia cifra. Lei eredita una squadra che ha già un suo modello di gioco con una difesa anche ben quadrata. confermerà il suo 4-3-3, ho visto che aveva anche provato con la difesa 3, ma confermerà la difesa 4, penso che rimarrà nei canoni che si sono visti nello scorso campionato o ci sono idee nuove? No, a me ho adottato diversi sistemi di gioco, in base anche ai giocatori che ho a disposizione. Quelli sono alla fine i numeri, poi alla fine bisogna vedere gli interpreti, bisogna vedere le caratteristiche dei singoli. A me piace una difesa a 4, poi può essere 4-3-4-2-3-1-4-3-1-2, questo cambia ben poco. Dipende, gli interpreti dipende durante la partita e dipende anche dall'avversario il come posizionarsi in campo. Però a me piace la difesa a 4, quindi partiremo sicuramente da lì. Però ripeto, in tutte le squadre, in tutti gli anni che ho allenato, siamo sempre partiti con la difesa a 4, poi durante il campionato abbiamo cambiato spesso, anche a Perugia ci sono state delle partite che ho visto la squadra in quel momento faceva fatica, abbiamo fatto 7-8 partite con la difesa a 3, ottenendo degli ottimi risultati. Poi quando ho capito che la squadra era pronta per giocare un calcio un po' più offensivo, l'ho modificato. Spostiamo un attimo una bottiglia per favorire gli obiettivi e adesso andiamo da Renzo Andropoli, Quotidano del Sud. Buongiorno, ben arrivato, ben trovato. Il suo nome produce molta attesa qui a Cosenza per i suoi trascorsi, perché in giro se ne parla molto bene. Ha un vantaggio, quello di avere una continuità nella direzione sportiva e di avere una base di giocatori già ben rodata e anche affidabile rispetto al passato. Questo però ne aumenta le sue responsabilità. È pronto ad affrontarle e ad alzare i risultati sportivi di questa squadra? Alla responsabilità sono pronto perché altrimenti non potrei fare questo mestiere. So le difficoltà, so le responsabilità, però sono contento perché mi piacciono le responsabilità. Per questo quando dico ho scelto di venire a Cosenza anche per questo motivo, perché è una piazza che a me fa piacere poter essere l'allenatore e allenare questi ragazzi e so le difficoltà. Nelle difficoltà so che bisogna lavorare e a me piace questo. Massimo Mitidieri, giornale di Sicilia. Buongiorno, mister. Benvenuto a Cosenza. In dieci mesi praticamente è passata dalla guida di una formazione che sulla carta ambiva al salto di categoria o quantomeno ai playoff, poi sappiamo tutti come è andata a finire, nell'allenare una formazione che sempre sulla carta vuole una salvezza tranquilla. Ecco, ha fatto tesoro di quello che è stato il suo percorso a Benevento e nello stesso momento lei parlava di rimettersi in gioco. Ecco, andrà a modificare qualcosa di come è stato l'approccio iniziale con il Benevento e nello stesso momento il progetto che lei parla, cosa prevede all'interno dell'aspetto tecnico? Per quanto riguarda l'anno scorso sicuramente ho fatto degli errori, come abbiamo fatto un po' tutti. Quando parliamo di una squadra che è sulla carta costruita per fare il campionato diverso, poi abbiamo visto com'è finita. Ci sono stati degli errori da parte di tutti. E da quegli errori io cerco di non ripeterli e cerco di migliorare. Per quanto riguarda il progetto, quando parlo di progetto è che sempre sulla carta noi partiamo con obiettivi diversi, però questa è una cosa che mi affascina perché quando parte con obiettivi diversi poi è sempre il campo che determina quali saranno gli obiettivi futuri. E noi dobbiamo essere bravi sul campo a cercare di, come ho detto prima, di mantenere prima possibile la categoria sapendo che è un campionato difficile. Questo è il nostro primo obiettivo. Però questo obiettivo passa attraverso le partite, attraverso soprattutto gli allenamenti, perché credo che quello che tu puoi riproponere la domenica è quello che tu fai durante la settimana. Noi dobbiamo essere bravi ad alzare sempre l'asticella, soprattutto durante la settimana, per poi andare alla domenica a raccogliere i frutti del lavoro settimanale. Quando parlo di progetti parlo di questo. E noi dobbiamo cercare di lavorare e migliorare partita dopo partita e arrivare più in alto possibile. Antonio Clausico, Cosenza Ciano e LACI, poi Roberto Preberosti. Mister, negli ultimi anni lei è diventato un allenatore di Serie B. Qual è la percezione che si ha del Cosenza? Una percezione di una società che cresce anno dopo un anno. Come ha detto il direttore, si è avuto apertura da parte di tanti allenatori, di quelli che ha contattato, perché è giusto anche che un direttore si faccia delle valutazioni e faccia delle valutazioni in base a tante cose. Lo faccio per risparmiare, così faccio un po' di concorrenza. No, quindi avere la disponibilità da parte di tutti gli allenatori che ha contattato significa che Cosenza ha una pilla molto importante nel calcio in Serie B, in questo campionato. Quindi scegliere Cosenza è stato, tra virgolette, molto molto facile, perché poi è una piazza, come ho detto prima, che ti dà degli stimoli, delle motivazioni. Io ho visto quella partita contro il Brescia e vedere tutta quella gente allo stadio. Non è facile un campionato di Serie B, l'abbiamo visto tranne qualche piazza abblasonata come Bari, dove secondo me in Serie B, dal punto di vista anche del pubblico, c'entra ben poco. Tante altre piazze, vedere più di 20.000 spettatori per una partita non è facile. Quindi anche questo è stato un motivo, perché allenare, sedersi su quella panchina e vedere quello stadio pieno ti dà uno stimolo in più. Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Buongiorno mister, benvenuto. Lei ha un compito, a mio giudizio, difficile e facile allo stesso tempo. Difficile perché questa, come ha detto lei, è una piazza esigente, una piazza passionale, che reduce da quattro anni di sofferenze in mani. E quindi si aspetta molto da lei e dalla sua squadra e si aspetta subito di non soffrire, come abbiamo sofferto negli ultimi tempi, e soprattutto di non subire alcune umiliazioni. Facile perché, a me piace ragionare sui numeri, negli ultimi quattro campionati il Cosenza ha una media punti di 1,03 a partita. Fare peggio è veramente difficile, perché vorrebbe dire retrocessione. Da questo punto di vista, lei ha parlato di progetto. In termini numerici, pensa già di avere una rosa quasi al completo nella fase di ritiro, anche se c'è il mercato che finisce sempre ad agosto, e di quanti elementi vorrà avere lei a disposizione. Giusto per rimanere sui numeri che non sbagliano mai. Grazie. Ma credo che di cose facili nel calcio si siano un ben poco. Per quanto riguarda la rosa, è una rosa che sicuramente verrà completata. Il ritiro viene fatto anche per valutare bene tutti i giocatori. Io conosco, ho allenato Calò, forse solo nella rosa, quindi gli altri li conosco perché da avversari li conosco. Poi è una cosa conoscere da avversario un giocatore e conoscerlo durante la settimana. Quindi è anche una valutazione che ho voluto fare col direttore. Prima di andare a intervenire sul mercato, bisogna valutare quelli che abbiamo dentro casa. Quindi queste sono considerazioni che abbiamo anche il tempo materiale per poterlo fare. Noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da parte di ogni singolo calciatore. E lo possiamo fare durante quest'arco di tempo che mi permetterà appunto di valutare tutta la rosa. E poi sarà compito del direttore della società intervenire dove mancherà qualche elemento che sicuramente in qualche reparto, lo sappiamo tutti, manca. Però bisogna scegliere bene, non avere fretta, perché la fretta poi non ti porta da nessuna parte, perché sbagliare adesso gli acquisti faremmo un doppio errore. Quindi bisogna ragionare con calma, cercare di portare più persone possibili, perché poi il mercato non è sempre così facile, perché ci deve essere la volontà della società, del giocatore. Quindi non è facilissimo prendere i giocatori, perché poi ti devi mettere anche nei panni di un giocatore. Ci sono tante componenti. Però noi valutiamo bene i giocatori che arriveranno a Cosenza, saranno giocatori che devono correre, lottare, come hanno fatto i ragazzi che sono stati qui l'anno scorso, perché ottenere il risultato che ha ottenuto il Cosenza è stato un risultato importantissimo, perché è vero che sempre c'è stato da soffrire e c'è da soffrire, anche negli anni precedenti ha sofferto, però è pur vero che ha ottenuto il risultato importante a mantenere la categoria, cose che in altri piazzi molto più blasonate, parliamo sempre numero alla mano come giocatori, non sono riusciti a mantenere la categoria. Quindi noi dobbiamo essere bravi a non sbagliare, soprattutto gli acquisti. Però di questo sono molto tranquillo, perché so come... Quella di il centrocampo, anima e corpo di una squadra, volevo capire se sarà proprio il centrocampo, l'anima del Cosenza della prossima stagione. Ma col direttore ci siamo visti qualche giorno a Reggio Emilia, siamo andati, eravamo a vedere una partita, le finali... Poi quando ci siamo sentiti telefonicamente, poi ci siamo visti, ci siamo sentiti una volta telefonicamente, una volta ci siamo visti e abbiamo concluso, perché c'è da parte di entrambi la volontà di iniziare questo percorso insieme, quindi è bastato veramente poco. Tanto nella fase difensiva, al reparto difensivo, quindi essere da filtro e soprattutto nella fase offensiva da supporto per gli attaccanti, con inserimenti, con sostegno. Quindi per me il centrocampo è l'anima di una squadra, ma non significa che deve essere solo il reparto dove costruire e fare bene, perché poi c'è bisogno di tutti. I difensori sono quelli che magari devono cercare di non far subire gol insieme al portiere, ma gli attaccanti sono i primi che in fase di non possesso devono dare una mano al centrocampo e alla difesa. Andiamo da Anna Franchino, TEN, Teaduropa Network. Direttore, benvenuto, allenatore. Allora, volevo chiederle, per quanto riguarda i tifosi, questa mattina in tanti mi hanno fermato prima di entrare qui in conferenza stampa, c'era entusiasmo, c'era voglia di fare un selfie con lei, un autografo, insomma, c'è molto entusiasmo da parte dei tifosi e l'anno scorso non era la stessa cosa. Sente questa responsabilità e poi cosa si sente di dire, di promettere a loro? La stessa domanda la faccio al direttore sportivo. Ma partire con l'entusiasmo non è una responsabilità, anzi è un piacere, perché arrivare in una piazza dove c'è tanto entusiasmo e dove sono contenti dell'arrivo magari dell'allenatore non sono della responsabilità, ma è un motivo di orgoglio, mi fa molto molto piacere. Quindi cercherò di ripagare questa fiducia attraverso il lavoro, attraverso i risultati. E quello che posso promettere sicuramente è che faremo, non ogni partita, ma ogni allenamento, cercheremo di fare sempre meglio e cercare di far divertire soprattutto loro attraverso il gioco, attraverso i risultati, perché è questo che conta nel calcio. Poi il bel gioco arriva fino a un certo punto, alla fine contano i risultati. Cerchiamo di fare un calcio molto propositivo, che a me piace questo. Non sarà facile sicuramente all'inizio, perché quando entri in un ambiente nuovo, giocatore, allenatore nuovo, ci vuole anche un po' di tempo. Però noi cercheremo di, sarò anche ripetitivo, ma attraverso solo il lavoro, cercare di far divertire i giocatori che giocano soprattutto, perché poi sono quelli che trasmetteranno questa voglia, questa determinazione, soprattutto ai tifosi. Direttore, Franchino, chiamati in causa anche lei. Ho sentito. È ovvio che nel calcio la passione, il trasmettere questo entusiasmo è l'adrenalina di questo sport, poi alla fine siamo tutti appassionati di questo grande bar dello sport, quindi questa cosa è quello che dall'anima, soprattutto a me, è quello che sposta. Quindi questa passione, che è un prezzo da pagare alto, perché è nell'alto e nel basso, e qua lo so benissimo, quindi mi fa molto piacere. Ho la responsabilità di continuare a cavalcare e alimentare questo entusiasmo che c'è. So che non è facile, so che non è difficile. Il mio obiettivo unico è quello di fare tutti i piccoli pezzettini per migliorare qualcosa, che non è una cosa semplice, una cosa minima. Invece il mio obiettivo principale è quello lì, è l'unico che resterà, tanto fra un po' mi farete la domanda dell'obiettivo, è migliorare di un centimetro rispetto al mio lavoro precedente. Il mister mi ha fatto tanti complimenti, mi ha detto che sono bravo, ma invece io sono il campione del mondo degli errori. Sbaglio tantissimo, però dagli errori cerco di fare tesoro o un bagaglio. forse è l'unico lato positivo che li riesco anche ad accettare e quindi a rivalutarli. Quest'anno la mia responsabilità è quella di alimentare il più possibile, anche se non sarà facile, se saranno periodi difficili, perché comunque il campionato di Serie B è complicato, anche se la partenza è sempre più semplice dell'anno precedente, ma non è così, perché ci sono tante insidie. e quindi la responsabilità me la sento, l'ho scelta, perché l'ho scelta. E sono contentissimo di avere la scelta, perché mi dà emozione stare qui. Quindi quando io andavo in giro, sto andando in giro, sto cercando di trattare e sento che il feedback aumenta, mi sento, mi inorgoglisce questo, perché finalmente hanno una percezione diversa dall'avvenuto prima, che poi è la realtà dei fatti, che Cosenza è una piazza che si sceglie. E lì se ne ho sposato solo Cosenza? Buongiorno, mister. So che lei ha sposato il progetto. Per noi, conoscendo il nostro Presidente, il budget che mette a disposizione, il fatto di aver riformato per un anno, anche se poi c'è l'opzione per il rinnovo, ci sembra qualcosa di un po' forzato. Ecco, io quello che voglio chiedere. Lei sarà in grado di farsi costruire una squadra che non debba essere poi stravolta a gennaio, come è successo negli ultimi anni? Ecco, che possibilità di convincere il Presidente di farsi fare una squadra, non con un budget che sappiamo che il budget conta fino a un certo punto, ma che sia solida per la prima parte del campionato, che è una cosa che noi non vediamo da anni. Ma per quanto riguarda il discorso del contratto, non è una cosa assolutamente forzata, perché io credo che i rapporti tra delle persone personalmente non li leggo ai contratti, perché posso anche firmare un contratto di tre anni, se non c'è sinergia tra le parti conta ben poco. Quindi abbiamo deciso, ma in modo sereno e tranquillo, perché credo che sia giusto così, sia per la società sia per l'allenatore. Quando parlo di progetto, ripeto, non è legato ai tre anni di contratto, perché se uno va d'accordo e c'è sinergia si possono allungare anno dopo l'anno. Per quanto riguarda il discorso di cercare di alzare qualcosa rispetto agli ultimi anni, è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare non significa portare a Cosenza 20 giocatori a luglio, perché è impossibile. Per quanto riguarda il budget sono cose prettamente societarie, quindi non entra in merito. Quando abbiamo parlato, abbiamo parlato di voler costruire una squadra per divertirci e per cercare di arrivare il prima possibile alla salvezza, che è il nostro obiettivo. Cercare di soffrire il meno possibile, sapendo che non sarà sicuramente, come diceva il direttore, facile, perché durante l'arco di un campionato ci saranno i momenti, spero pochi, però ci saranno dei momenti difficili, dove bisogna stare tutti insieme e lottare, perché è un patrimonio importante il campionato, questo campionato, questa categoria per Cosenza, perché è una piazza importantissima, e quando sento parlare in giro di Cosenza, qualcuno mi chiede come mai sei andato a Cosenza, e gli dico che sono andato con tanto entusiasmo, perché è una piazza importante. È importante dove c'è la parte dei calciatori che ha contattato il direttore, qualche calciatore magari che ci sentiamo, e sono molto entusiasta, di poter magari far parte di questo nuovo pericolo. progetto, quindi il fatto del contratto per me non c'è stato mai un problema. Abbiamo deciso di fare un anno per l'opzione. Osvaldo Morisco, Cosenza Uno Special. Buongiorno e benvenuto, mister. Ecco, mi collego a quello che diceva il collega Eliseno Sposato. Lei ha parlato col Presidente Guarascio, quindi gli avrà dato comunque delle garanzie per l'assemblaggio di una squadra che non debba ricorrere ai miracoli dell'ultimo secondo in campionato, quindi una squadra che possa essere quanto meno competitiva quest'anno. Mi pare che abbia già risposto adesso, mister, però. Sì, ma no, è competitiva. Il nostro campionato è quello, cercare di fare più punti possibili e arrivare prima possibile alla salvezza. Le garanzie sono queste, che il Presidente vuole fare qualcosa in più rispetto agli ultimi anni per cercare di fare costruire una squadra, soprattutto all'inizio, che sia una squadra completa e poi, come abbiamo detto prima, non stravolgere poi l'intera rosa a gennaio. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buongiorno. Buongiorno. Ha parlato di calciatori da recuperare. Uno di questi è sicuramente Calò, un calciatore che conosce bene per averlo allenato già in passato. Ecco, con lui sarà più un lavoro da un punto di vista tecnico-tattico magari riportarlo al centro del gioco con un cosenza più vuota dal palleggio oppure sarà maggiormente un discorso psicologico? E poi la seconda domanda, in realtà è una curiosità, l'opposizione per il rinnovo del suo contratto è legato alla salvezza oppure ad un obiettivo un po' più ambizioso? Per quanto riguarda Calò, è un giocatore che con me ha fatto benissimo sia a Castellammare e sia a Benevento. Un giocatore che sicuramente l'anno scorso non ha fatto bene però purtroppo può capitare. Credo che abbia delle qualità importanti. È un giocatore che soprattutto anche nelle palle inattive è un giocatore molto utile. da noi è stato determinante a Castellammare e ripeto anche a Benevento. Ma non dipende, non è un discorso che dipende solo per Calò, dipende un po' per tutti. Perché io penso che ogni volta, ogni anno, quando finisce un campionato e inizia un altro bisogna zerare tutto, bisogna ripartire perché quello che è stato fatto sia di positivo che di negativo bisogna zerare e mettere da parte, iniziare a pedalare dal primo giorno del ritiro. e ripeto, non è un discorso che vale solo per Calò. In particolare lui so delle qualità fisiche e tecniche e soprattutto anche mentali perché poi i giocatori soprattutto quando non sei caratteramente magari forte fa fatica. Però cercheremo di recuperare sia lui e valutarlo bene come del resto la rosa. Per quanto riguarda il contratto abbiamo l'opressione per... qual è l'opressione? Non lo dico. Non lo dico. Non lo dico. È un'opzione. È un'opzione. La parola che avete mi piace, la luce. Non su quella. Va bene? C'uattaci qua. E così la risposta. Marcello Romanelli Il Quotidiano. Salve mister, benvenuto. Vorrei sapere il suo rapporto con i giovani e soprattutto il Cosenza attinge molto dalle primavere di Serie A. L'anno scorso abbiamo avuto Nasti e si è avuto la possibilità di dire al direttore qualche giovane interessante da qualche primavera abbiamo saputo qualche... è uscito qualche nome di qualche attaccante. Ma io con i giovani ho un buon rapporto perché secondo me i giovani sono è una ponte di... per un allenatore soprattutto i giovani perché li reputo sono dei bicchieri che li devi riempire sempre di acqua ogni volta che gli metti del lavoro sono come delle spugne quindi è bello lavorare con i giovani ma a prescindere da tutto giovani o meno giovani se hai la disponibilità da parte di tutti i calciatori a lavorare e crescere e migliorare secondo me è molto importante poi il direttore sta facendo tante considerazioni su tanti giovani e meno giovani sta cercando di costruire una squadra intervenire dove manca qualcosa qualche elemento cercare di portarlo il prima possibile a Cosenza perché anche lui lo sa che durante la fase del ritiro è una fase molto importante per poter lavorare per poter assimilare tanti schemi tante situazioni che chiederò e quindi stiamo lavorando su questo Aldo Morelli Corriere Sportivo di Calabria Buongiorno mister e benvenuto a Cosenza le volevo chiedere questo le ultime stagioni del Cosenza sono state molto travagliate e difficili io mi volevo soffermare sulla figura dell'allenatore che ha visto appunto diversi allenatori passati da Cosenza presentati in estate come lei non terminare il campionato ed essere esonerati le chiedo se questo è un dato che le trasmette più preoccupazione oppure è uno stimolo ulteriore grazie gli hai fatto un bel augurio non posso fare gesti scaramantici auguri ma questo non è un problema che riguarda il Cosenza in generale è così un allenatore inizia non sai mai se finisce però non posso pensare a questo devo pensare che devo essere orgoglioso di poter allenare il Cosenza e sappiamo che l'allenatore è legato ai risultati però non mi preoccupo altrimenti non starei qui io non devo essere preoccupato di questo devo essere preoccupato di quello che devo andare a fare con i ragazzi durante l'arco del campionato e cercare di arrivare fino in fondo di arrivare con la permanenza del del Cosenza nella nella serie B in questa categoria perché questo è il nostro obiettivo Fabio Mandato parola di vita sarà più ottimista Sì per il direttore Gemmi la domanda è esplicita se lei ha un budget superiore rispetto all'anno scorso se è significativamente superiore anche perché io credo che lo sforzo da fare in una serie B forse meno blasonata rispetto agli altri anni sia davvero non tantissimo per poter portare a casa come diceva il tecnico una salvezza più tranquilla anche sul meno blasonato non posso fare gesti scaramantici perché ogni campionato quando parti tutti abbiamo un'idea no? Poi matematicamente al 100% il finale è diverso da quello che immaginavo quindi io non sono così convinto che sia meno blasonato sono convinto che è difficile in ugual modo a quello precedente e a quello ancora prima per quanto riguarda il budget io so che è una domanda che a voi piace tantissimo proprio e ho sempre detto che il budget non è una cosa importante comunque sì abbiamo più budget sono bello abbiamo più budget poi vediamo se sono bravo a farlo fruttare di più o di meno se siamo bravi però sì abbiamo più budget e credo che qualche segnale si è già percepito con il rinnovo di Micai sono molto vicino altri rinnovi quindi sono perché credo che non è facile fare una squadra prima di ritiro perché comunque questa anomalia che non capisco del calcio che il mercato è durante una fase iniziale di campionato o e il mercato è ancora aperto allunga i tempi di negoziazione e questa è una cosa che io non condivido ma sono l'unico e non cambierà mai perché poi tutti allungano il brodo come si dice nel gergo però secondo me far partire già avere una base rispetto all'anno scorso io parlo del mio lavoro ci aiuta e quella base il mio primo obiettivo è quella base renderla un po' più serena gradificando quello che poi hanno fatto di bene o meno bene dell'anno precedente quindi anche su qualche rinnovo sto lavorando sono in fase di chiusura i tempi sono più o meno giusti per quanto riguarda i giocatori stiamo lavorando e cercheremo di rinforzare con l'idea di rinforzare nelle parti dove poi abbiamo bisogno tanto uno dei problemi dell'anno scorso io non mi nascondo è stato gli attaccanti che a livello di numeri come dice è giusto di fare una riflessione abbiamo bisogno di trovare qualcuno che abbia una capacità regalizzativa un po' più alta dell'anno precedente Pasquale Golia Meridionale Communication domanda a chi? al mister benvenuto mister le faccio una domanda un po' telegrafica lei è uomo di sport l'agenda oltre all'aspetto tecnico vuole conoscere i nuovi allenatori soprattutto in una piazza importante come Cosenza mi chiedo allora per conoscerlo cosa rappresenta per lei lo sport e il calcio? la mia vita perché è più di vent'anni che faccio questo prima da calciatore adesso allenatore è la cosa che tengo più di tutto perché poi faccio il lavoro che poi è stata la mia passione e quindi lo faccio ventiquattro ore al giorno quindi per me è tutto abbiamo altri cinque minuti domanda se non sbaglio Renzo Andropoli l'ha chiesto il BIS sì per il direttore grazie dice l'operazione Micai è un'operazione meravigliosa tutta la città ne parla ed è entusiasta di questo colpo di mercato questo rinnovo un rinnovo importante un triennale che segna segna la volontà del Presidente di alzare la sticella prima viene un dubbio non è che in questo momento di budget si era già giocato tutto va bene in questo caso ho commesso io l'errore non il Presidente che ha avuto il budget se vi ho già speso no ma no ma bisogna avere equilibrio vi ho sempre detto che il budget non è un fattore prescindibile non è determinante ovviamente avere un budget maggiore aiuta però il focus non è quello il problema non è quello secondo me l'obiettivo che noi ci siamo dati è quello di strutturarci un po' di più di consolidare questo club in questa categoria che non è soltanto un discorso di calciatori è un discorso un po' generale perché secondo me abbiamo bisogno di questo perché credo che è una piazza è un contesto che io ho sempre detto ma fil di gas se buttiamo un po' il piede sull'acceleratore non immagino cosa possa succedere sono curioso quindi non è facile è difficilissimo sto attento alle parole che uso perché se la sbaglio poi me la rinfacciate di brutto quindi ho già scottato questa cosa qui però ma anche quella parola lì è una parola di orgoglio una parola di orgoglio che deve avere questa piazza deve essere orgogliosa solo quella mi intendo non è mi intendo poi mi è stata ribaltata in faccia molto fortemente come tante altre parole non solo quello però fa parte di questo mondo e quindi è giusto però noi so che è molto difficile e piano piano vogliamo cercare di mettere qualche pezzettino per migliorare poi che sia il budget o che sia i giocatori che vengono può piacere il nome più di uno più di un altro è tutto relativo poi alla fine c'è il giudice supremo che sono il campo i risultati e lì poi determina se uno è bello è brutto è un po' la favola di questo sport che poi piace a tutti che da adrenalina e l'accettiamo e con grande umiltà ci lavoriamo per cercare di guadagnare un millimetro o un centimetro Franco Rosito mister lei sicuramente ha parlato col presidente Guarascio giusto anche più di una volta ma ha confessato le ha confessato così come va sussurrando all'orecchio di alcuni di noi da anni che lui resterà a Cosenza fino a quando non porterà questa squadra in Serie A e quindi le ha esternato questa ambizione non abbiamo parlato di questo no altrimenti no 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 non abbiamo parlato di questo abbiamo ci siamo conosciuti ci siamo confrontati abbiamo parlato un po' della squadra abbiamo parlato di quanto ci tiene lui a Cosenza abbiamo parlato perché io gli avevo gli avevo detto che stavo con la partita col Brescia stavo lì in tribuna ma abbiamo chiacchierato un po' abbiamo parlato in modo sereno e tranquillo non abbiamo parlato di Serie A non abbiamo parlato di nient'altro assolutamente ma a te te l'ha sussurrato? come? dici così perché a te te l'ha sussurrato? da diverso tempo è un privilegiare è un privilegiare meglio sussurrare a questi livelli che non quello di prima senza non la togliere al giovane collega Aldo Morelli mister se sbaglio due partite te ne vai vabbè però è legittimo Franco Segreto intanto lo salutiamo il presidente Guarascio perché in conferenza stampa ormai manca da anni per cui anni no è venuto esattamente non volevo salutare cordialmente dalla festa del filerio che è la patrona di Cosenza che viene di febbraio e l'ultima volta che ci siamo visti risale a febbraio 2022 se ci fosse stato oggi avrebbe rubato la scena e invece oggi è il giorno del mister e vedo che state gratificando il mister salutare allora per il direttore sportivo gemmi visto che poc'anzi si è parlato praticamente dei reparti lei ha fatto bene a mettere praticamente ad affondare il bisturi sull'attacco che è stato il peggiore del campionato dell'anno scorso allora tutti questi nomi tutti questi nomi visto che nastri forse valfrosinone eccetera e quindi non c'è possibilità di averla a Cosenza i vari tuttino la mantia eccetera è questo che vogliono sapere i tifosi ma anche noi come detti al lavoro cosa c'è di vero cosa ci può dire che ha sommato in anteprima grazie è una domanda di mercato che non c'entro con la presentazione del mister però me la sono me la sono voluta me la sono voluta no per quanto riguarda il mercato sugli attaccanti sto lavorando in perché secondo me è un reparto dove sostanzialmente dobbiamo migliorare ovviamente è un reparto è un reparto dove tutti vogliono prendere i migliori e quindi c'è una guerra incredibile su questa cosa sicuramente noi vogliamo cercare un giocatore che abbia un profilo di garanzia di gol un po' diverso da quello precedente però non è facile perché non è che sono l'unico sono tutti poi diciamo sicuramente gli attaccanti che danno questa garanzia nel campionato italiano oggi come nome rappresentativi non sono tanti forse non arriviamo a 10 quindi combattere con tutti diventa difficile i tempi si allungano non si può mai sapere Walter Leone giusto per stemperare un po' mi riferisco al mister l'ultimo regino che è stato qui in panchina ha vinto due campionati per cui mettiamola così Mimmo Toscano al direttore magari se riusciamo a rompere questi stereotipi ce lo dice una cosa che farà subito ci annuncia in diretta la cosa immediata dopo Michele infatti pensavo che se lo tenesse per oggi alla fine no non lo so ma perché non perché non voglio dare anticipazioni perché il mercato è strano sempre detto io nel mercato credo solo una cosa quando si firma tutto l'altro non conta rischio anche una cosa già che può essere avanzata molto vicina saltare faccio anche una brutta figura oppure manco di rispetto alla comunicazione che gli ho dato la notizia non vi ritiene che poi di fatto lo è ci sono mille episodi da Erika arrivano a terra in sede per filmare e vanno alla sede accanto vorrei evitare sto lavorando i tempi non sono così brevi sicuramente si però ci vuole qualcuno che Massimo Massimo Mitidieri sono cercato di spingere da dietro capito direttore non so se la mia domanda è di mercato o non mercato mi preoccupo no Zarate volevo giusto sapere stanno dall'entourage di Zarate le stanno mandando dei segnali e volevo sapere anche da parte di mister Caserta che giudizio ha su Zarate grazie ok per quanto riguarda Zarate è una valutazione che devo fare è una valutazione mia a prescindere che il Presidente ha promesso il rinno o no poi è una scelta tecnica a oggi per me per il giocatore che è un campione quindi non stiamo lì a valutare il giocatore ma il discorso dell'età è il discorso anche fisico quindi a oggi non rientra nei piani nella mia testa e quindi devo fare una valutazione sto cercando di andare su altri profili e su altre caratteristiche quindi bisogna essere chiari e per quello voglio dare tutte le delucitazioni possibili quindi in questo momento Zarate non è non fa parte del nostro obiettivo grazie grazie il giudizio tecnico parlare di Zarate lo conosciamo tutti sappiamo il calciatore le qualità però poi c'è la società che farà delle valutazioni con il giocatore che stava qui l'anno scorso ed è giusto la società faccia prima le valutazioni che servono speriamo che riprenda più velocemente possibile che l'augurio più grande li facciamo vi saluto grazie a tutti grazie al direttore Gemmi grazie a mister caserta se vuoi